anche nei confronti dell'Unione Europea. L'avvicinamento è un obiettivo da perseguire in maniera indispensabile perché occorre restituire agli europei un po' l'entusiasmo per l'Unione che prima era molto alto e che in molte fasce di pubblico e opinioni si è attenuato. Potrebbe essere anche quello uno strumento di partecipazione, certamente è importante il ruolo del Parlamento europeo in questo, ma anche quella potrebbe essere un'iniziativa interessante. Presidente, da siciliano a siciliano.